Cisio, non finisci le munizioni. Cazzo sta succedendo. Parliamo dopo. Ora pensa a restare vivo. Mira alla testa, sprechi meno proiettili. E' il colpo. Niente da fare, stronzi! Ne hai già uccise di questi mostri. Ho perso il conto. Rifornisciti finché puoi. Mi sento arrivare a te. Ok, ma voglio delle risposte quando abbiamo finito. Mangia un po' di piondo, perché ti fussate. Ehi! Mi daresti una mano qui? Fa il colpo. Controlla il retro. Ne sento degli altri. Niente da fare, stronzi! Merda, sono ovunque! Non farti circondare! Hai abbastanza munizioni! Che cazzo è stato? Guarda, attenta! Cosa sono queste cose? Mi fa anche uccidere! Qualcuno è stato? 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 Grazie a tutti.